sono relativamente certo che più o meno entro un annetto la mia vita professionale non avrà più alcun segreto per te che cosa è successo che tempo fa in un video ho presentato alcune impostazioni ed alcune estensioni per google chrome e per tutti quanti i chromium che ritenevo essere particolarmente interessanti ma un membro della community mi ha rivolto una domanda altrettanto interessante ed in particolar modo mi ha chiesto visto che tutti i giorni tu leggi tante notizie ti informi cerchi di tenerci aggiornati non è che per caso hai una configurazione particolare sul tuo google chrome oppure usi delle estensioni speciali che ancora non ci hai presentato e che magari potrebbero essere utili a tutti per fare un lavoro simile a quello che fai tu ebbene la risposta è sì il mio super chrome professionale dispone di una serie di estensioni che non ti ho mai fatto vedere che sono in grado di aumentare la produttività da un lato ma dall'altro di semplificare tutto quanto il lavoro che si fa abitualmente su internet e allora mea colpa per non avertele presentate prima ma adesso ci rimettiamo subito in pari e se ti senti pronto iniziamo partiamo immediatamente a passo di carica e andiamo subito ad aprire il nostro google chrome oppure se preferisci un chromium qualsiasi come ad esempio edge opera vivaldi e così via una volta aperto come sempre digitiamo nel motore di ricerca gentiluomo digitale ed effettuiamo la nostra ricerca faremo riferimento al primo risultato quello che auspicabilmente dovrebbe chiamarsi www.gentiluomodigitale.it facciamo un click per andare ad aprire il sito e una volta aperto ci porteremo nella sezione in alto dove c'è scritto downloads clicchiamo per aprire la nostra pagina dei download e scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questa voce che è un pochino atipica e adesso capirai il perché rispetto al solito ti ho infatti elencato le estensioni che solitamente utilizzo assieme ad un'altra che ti ho già presentato e quindi ho lasciato già installata che è I don't care about cookies che trovi in quel video precedente se andiamo a fare un singolo click su ognuna di queste estensioni le andremo ad aprire in altrettante schede separate in modo tale da poter lavorare in maniera più organica quindi clicchiamo su tutte e quattro e torniamo tra l'una e l'altra sulla pagina del nostro sito una volta terminato avremo le pagine di tutte quante le estensioni già aperte partiamo dall'ultima si chiama fridi che cosa fa fridi per noi si tratta di un ausilio fondamentale per la nostra lettura e comprensione degli articoli tanto per cominciare andiamo ad aggiungerla facendo clic sul pulsante aggiungi e successivamente cliccando su aggiungi estensione una volta che fridi sarà stata aggiunta a chrome per vedere come funziona potremo fare un test direttamente sul nostro sito gentiluomo digitale andiamo ad aprire una pagina qualunque di questo sito come ad esempio la pagina home e andiamo a fare clic qui in alto per mostrare l'estensione e attivare fridi una volta attivata come vedi comparirà questa finestrella che contiene due pulsanti quello che ci interessa è solamente il pulsante che si chiama red andiamo a vedere come è fatta questa pagina e andiamo a vedere come si modifica dopo che avremo fatto clic appunto sul pulsante red come vedi la pagina viene privata di tutti quanti gli orpelli e di tutti quanti i fronzoli e il testo diventerà estremamente più leggibile in modo tale da consentirti in maniera molto semplice soprattutto senza alcuna distrazione la lettura del relativo articolo questo naturalmente ti consentirà di evitare di dover cliccare su tutte quante quelle finestrelle che si aprono abitualmente sui siti di dover ignorare le varie pubblicità e tutto il resto concentrandoti solo ed esclusivamente sul lavoro che intendi fare ma non basta chiudiamo infatti questa finestrella cliccando nuovamente su red e poi al di fuori della finestra stessa e portiamoci sulla seconda estensione che voglio mostrarti si tratta di un qualcosa di estremamente semplice ma altrettanto utile se clicchiamo infatti sul pulsante aggiungi anche in questo caso e successivamente andiamo a confermare di voler aggiungere questa estensione con il relativo pulsante vedrai che al nostro chrome verrà aggiunto un comodissimo notepad che ci permetterà di prendere appunto nota di tutti quanti gli appunti che ci serviranno nel corso della lettura di un articolo tieni conto che tutte queste estensioni naturalmente possono essere sommate e possono interagire tra loro andiamo a vedere come ci riportiamo infatti sulla pagina gentiluomo digitale potremo andare ad attivare prima l'estensione pridi che abbiamo visto poc'anzi mettendola in modalità di lettura e successivamente potremo magari selezionare una parte importante del nostro testo andare a copiarla attivare il nostro notepad e andare ad incollarcela all'interno automaticamente la nota verrà salvata se non le darai un titolo particolare prenderà come titolo l'inizio della frase che hai appena salvato se successivamente andiamo anche a chiudere il nostro notepad e ci portiamo su un'altra pagina qualsiasi nel momento in cui andremo a riaprirlo troveremo la nostra nota possiamo anche aggiungere più note contemporaneamente e tenerle tutte quante salvate insieme eccole qui di la verità quante volte avresti avuto bisogno di prendere un appunto al volo mentre stavi navigando su internet ebbene adesso lo puoi fare ma questo ci porta dritti filati alla terza estensione che voglio presentarti che si chiama print friendly andiamo ad aggiungerla esattamente come abbiamo fatto in precedenza clicchiamo sul pulsante aggiungi estensione per confermare di volerla aggiungere e andiamo subito a provarla aprendo come al solito la nostra pagina di gentiluomo digitale e questa volta cliccando sempre sul tassello estensioni andremo ad attivare print friendly avremo la possibilità di trasformare qualsiasi pagina web direttamente in un pdf tramite questi tre pulsanti in alto potremo stampare la pagina stessa in modalità direttamente leggibile come vedi oppure trasformarla in un file pdf o ancora inviarla direttamente via email insomma un'altra bella comodità che personalmente utilizzo tantissimo una volta terminato il lavoro ci basterà cliccare su questa x per ritornare alla nostra pagina normale e veniamo alla mia quarta e importantissima a mio avviso estensione salvavita si tratta di red allowed un lettore vocale clicchiamo ancora una volta sul pulsante aggiungi e come fatto in precedenza confermiamo cliccando sul pulsante aggiungi estensione e come vedi l'estensione red allowed verrà installata sul nostro pc tuttavia questa estensione richiede un attimino di configurazione per farlo andiamo a cliccare sull'estensione stessa e quindi scegliamo il pulsante con l'ingranaggio per andare ad aprire le impostazioni qui in alto dove dice voce togliamo auto select e andiamo a scegliere google italiano ti garantisco che è la migliore di tutte quelle che ho provato successivamente aumenta leggermente lo slider velocità e quindi clicca sulla x per chiudere le impostazioni andiamo subito a fare una prova portiamoci nuovamente sulla nostra home di gentiluomo digitale andiamo a riattivare ridi mettiamo la pagina in modalità di lettura e quindi proviamo ad attivare l'estensione red allowed gentiluomo digitale canale youtube su informatica e tecnologia accessibili a tutti ciao mi chiamo vito e sono un tecnico informatico sin dallo scorso millennio ok pausiamola probabilmente la velocità sarebbe a mio gusto da accelerare un pochettino come ti ho già mostrato in ogni caso penso che il concetto sia chiarissimo questa estensione ti dà la possibilità mentre lavori e fai delle altre cose di ascoltare la lettura degli articoli proprio come se stessi ascoltando un podcast o un programma radiofonico senza concentrare la tua attenzione sul testo stesso e soprattutto grazie alla combinazione di queste due estensioni di ascoltarlo privo di qualunque fronzolo pop up pubblicità e così via clicchiamo al di fuori per andare a chiudere tutto quanto ritorniamo sulla nostra pagina principale perché ho un ultimo importantissimo consiglio da darti naturalmente è piuttosto scomodo come vedi andare ad utilizzare queste estensioni cliccando sul tassello e poi andando a selezionarle quello che ti consiglio di fare infatti è per fridi per print friendly per red allowed e per notepad di andare ad attivare questo pin quello che si chiama blocca nel momento in cui verranno attivati in questo modo ce li avrai sempre visibili qui in alto a fianco al tassello stesso e potrai in questo modo utilizzarli direttamente cliccando sull'estensione che ti serve e attivando la relativa funzione mi raccomando non dimenticarti di farlo l'indimenticabile massimo troisi in una delle sue più grandi interpretazioni assolutamente superfluo che io ti dica il titolo del film perché sono certissimo che lo conosci ma magari dammi conferma nei commenti invece veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per claudio mazzacani marco buonsante ed andrea nastro per essersi abbonati al canale e quindi a voi tutti il benvenuto a bordo nella community dei gentiluomini ma un altro ringraziamento particolare va a luciano tieppo perché perché si è abbonato in qualità di distinto gentiluomo e quindi caro luciano mi levo il cappello farlocco davanti a te ma c'è ancora un altro ringraziamento che non possiamo assolutamente dimenticarci di fare ed è quello rivolto proprio a te che hai guardato questo video e mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non ti rubo altro tempo ma ti saluto e ti do appuntamento come sempre alla prossima